Buongiorno direttore, buongiorno ai gentili ospiti intervenuti. BIM e digitalizzazione del patrimonio pubblico in tre minuti circa. Mi collego a quello che ha già detto il mio collega Alessandro Foggia. Noi avevamo una serie di dati di un certo tipo, prevalentemente cartascio. Uno dei problemi che avevamo era quello lì, ed è continuo a essere, quello delle manutenzioni degli immobili. E quindi una conoscenza diversa che passa dal cartascio alla conoscenza effettiva dell'immobile sotto l'aspetto fisico. Quindi, utilizzando anche prima dell'obbligo normativo che ha introdotto il decreto 560 a partire dal 2019 per gli immobili di grande importanza, noi abbiamo iniziato da subito, naturalmente a fatica, facendo piccole prove, l'utilizzo del BIM. Cioè questo processo che non è solamente una progettazione in CAD, è un'evoluzione della progettazione in CAD. Quindi dovevamo passare noi dalla conoscenza cartacea dell'immobile, delle planimetrie di conoscenza dell'immobile, alla modellazione dell'immobile medesimo. Qual è il punto di caduta del BIM? Il punto di caduta del BIM è la conoscenza in qualunque momento dello stato fisico dell'immobile per poi poterlo gestire. Ovviamente detta così sembra semplice, ma non è così semplice. Abbiamo utilizzato la possibilità che il nostro ministro ci ha dato con delle linee guida nel 2016 dandoci anche dei fondi per fare l'odice sismico e energetico di tutti gli immobili in uso governativo del patrimonio delle amministrazioni centrali. Quindi noi abbiamo avviato un processo di digitalizzazione che naturalmente ha avuto degli investimenti. Abbiamo aggiornato e implementato gli hardware e i software. Abbiamo fatto una formazione del personale tecnico che era connessa ai fondi che il nostro ministro allora ci aveva dato anche assumendo dei tecnici specifici. Abbiamo costituito il nucleo delle opere digitali, abbiamo fatto le linee guida corporate e le linee guida di processo non semplici, anche perché nessun'altra pubblica amministrazione ha queste cose. Le linee guida corporate e le linee guida di processo. Oggi gli appalti BIM si sono fatti così, ma nessuna altra amministrazione dello Stato riesce ad essere organizzata con questo tipo di processo rispetto alla gara che noi facciamo. Tant'è vero che il contenzioso è praticamente zero. E' chiaro che c'è sempre un dialogo con gli offerenti, però tutte queste attività che sono attività poi alla fine modulari, perché comunque noi cerchiamo sempre la stessa prestazione, hanno aiutato l'Agenzia del Demanio a fare questo piccolo salto in più, che non è piccolo ma ancora deve essere fatto molto perché noi dobbiamo arrivare alla gestione dell'immobile. Abbiamo tutto questo grazie al fatto che noi abbiamo personale tecnico giovanissimo. Cioè qui noi abbiamo tecnici che non superano i 40 anni, 43-44 al 50% uomini, 50% donne e sono tutte persone entusiaste del lavoro. Quindi tu se li fai lavorare loro sono contenti, se li lasci fermi no. Tutta questa attività ci ha portato ad avere, a passare dalla conoscenza amministrativa, tecnica statica, a una conoscenza tecnica dinamica degli immobili. Quindi agganciandosi a quello che diceva Alessandro Foggia prima. Quindi abbiamo fatto una digitalizzazione del processo che permetterà la creazione del fascicolo digitale del fabbricato. Che cosa significa? Significa che io sono in grado in qualunque momento di conoscere la situazione fisica della stazione dei Carabinieri X. Quando devo fare le manutenzioni, che è il vero problema italiano, io non ho bisogno di fare rilievi. Entro, vedo la consistenza dell'immobile e riesco, diciamo, con il ciclo di manutenzione programmata degli impianti, del cemento armato, della muratura e di tutto ciò che vogliamo, riesco a programmare le manutenzioni. E non è poco. Questo arriva alla gestione degli immobili, quindi anche ai consumi. Perché noi abbiamo un altro portale, che è il portale Iper, dal quale riusciamo a monitorare tutti i consumi delle amministrazioni. Naturalmente che caricano i dati, se non li caricano, diciamo, noi non riusciamo a governare. E quindi siamo sempre a stimolare questa attività. Quindi, noi attraverso l'adeguamento sismico e l'audit energetico, siamo riusciti e stiamo riuscendo a creare questa banca dati attraverso il BIM. In questi anni, quindi, abbiamo fatto tante gare d'appalto BIM. Diciamo che, come vedete, diciamo, negli anni 2018, 2019 e 2020, noi siamo quelli che abbiamo la percentuale più alta di gare in BIM nell'ambito della pubblica amministrazione. Questo è un rapporto OICE. Quindi, diciamo che noi abbiamo, su tutto il territorio nazionale, come diceva il Dottor Foggia, noi siamo organizzati in direzioni regionali e territoriali. Ognuna di queste ha un servizio tecnico territoriale ed è a loro che dobbiamo, come dire, tutte queste attività. Perché noi al centro coordiniamo e governiamo. Ma in realtà, la vera, diciamo, motore produttivo sono le direzioni regionali. Come vedete, diciamo, non è poco sia in termini di gare per indagini, sia in termini di gare di progettazione e realizzazione dei lavori e soprattutto, vedete, gli importi sono piccola cosa. Però, voglio dire, si inizia così e l'agenzia ancora di margine ne ha tanto. Chiudo. Ovviamente, diciamo, il cuore di questa attività è una CIDAT. Cioè, una CIDAT proprietaria che noi abbiamo, diciamo, realizzato con Sogei, con la collaborazione di Sogei, quindi tutto interno in casa MEF, perché poi di questo si tratta, quindi niente consulenti esterni, eccetera, eccetera. Quindi è lo Stato che qui si muove, con dei modelli consultabili per la Facility e l'IFFC che consente, come dire, una integrazione con altri sistemi di lettura gestionale. Grazie e buona continuazione.